la forbice alluminio handy è considerata la più leggera ma ha la forza dell'acciaio le lame inserite sulle forbici combinate handy hanno un'impugnatura più scura e sono smussate inclinando le forbici combinate leggermente sulla destra si producono tagli diritti e circolari a sinistra e a destra di diametro ridotto fino a 15 centimetri dopo l'uso protratto le lame possono essere affilate nuovamente o sostituite la linea classica è stata creata reintroducendo lo stile handy originale il design arrotondato e le impugnature più piccole della linea classica rappresentano la scelta ideale per l'utente che preferisce il comfort della forbice originale handy